Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Non si fa altro che parlare del funerale di Navalny, un funerale che è su tutte le prime pagine dei quotidiani, è in apertura di tutti i telegiornali. Insomma, non si parla d'altro. Ed è anche chiaro perché la morte di Navalny, come la stessa esistenza nella sua ultima fase di Navalny, è stata impiegata d'arte dall'Occidente liberale atlantista in funzione antirussa. Come ho detto più volte siamo molto dispiaciuti per la morte di Navalny, ma sarebbe un grave errore fare quello che si sta ora facendo, cioè mutarlo in un santo, beatificarlo in chiave ageografica, ed è purtroppo, ripeto, quello che si sta facendo, trasformando Navalny in eroe della libertà e in paladino della democrazia. Ciò che in realtà egli mai è stato, da che dapprima fu esponente di una destra radicale xenofoba avversa all'idea di libertà e di democrazia e nell'ultima fase della sua vita fu semplicemente un esponente dell'atlantizzazione della Russia, un araldo dell'ordine liberal atlantista. Indi per cui Navalny, con tutto il rispetto del caso, non può essere santificato come eroe della libertà e come paladino della democrazia. E però in queste ore con il funerale viene celebrato ageograficamente, si è data voce anche alla moglie di Navalny, la quale ha detto che renderà orgoglioso di lei il marito, che continuerà nelle sue battaglie, cioè le battaglie volute da Washington. È noto e arcinoto che Washington vorrebbe ridurre la Russia, semplice colonia della civiltà dell'hamburger, ma così non è e non sarà fin tanto che Putin riuscirà a opporre resistenza alla libido dominandi di Washington, alla sua sete imperialistica di conquistare la Russia. Ecco perché la civiltà dell'hamburger odia in maniera così spiccata Vladimir Putin.